Sì, sono rimasto l'alcolare, con la piede. Sono rimasto fermo una coltita e li guardavo stavolta in là Guarda che si arretra, non vanno addosso alla gente Con il bastone te lo metti davanti un picc'è di novità Un punti per falco la scena Io francamente lo spai dall'altro di là e dall'altro c'è l'altro giusto A voi! Ok, come lo organizzai voi? Albi! 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 L'ho visto dopo! Doppio! Nullo! Brutti! A voi! Occhio! Ah! Tres per falco! Zerro per unter! Brutti! A voi! Preto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.